ottimo direi iniziamo bene il 2022 con una bella foratura ottimo ottimo si inizia alla grande al top buongiorno ragazzi buongiorno sono quasi arrivato a casa niente volevo augurare tutti gli amici di facebook di youtube un felice 2022 speriamo che sia migliore del precedente oggi qua in piemonte iniziato il primo giorno dell'anno con una bellissima giornata speriamo che sia di buon auspicio niente quest'anno io mi sono prefissato di montare le lucine di sicurezza non è non è non è molto però è qualcosina quello che possiamo fare e facciamo ve lo consiglio anche a voi ragazzi montate le lucine di sicurezza sulla bici e niente adesso arrivo a casa quanti chilometri ai pino quest'anno 40 ciao ragazzi